Metti Nielsen, primo gol in Italia in una serata straordinaria. Una grande notte per noi. Per me ho fatto il mio primo gol e sono felice. Ancora abbiamo tanto lavoro di fare, siamo calmi e sono felice stasera. Con sei gol messi via tutti i problemi. Con sei gol? Mi scusa, non ho capito. Six gol? Sì, sei gol. No problem? Come si dice? Abbiamo fatto bene oggi. Ancora abbiamo tante altre occasioni di fare gol. Abbiamo giocato una grande partita. È tutto. La prossima settimana è un'altra partita. Bisogna lavorare forti ancora. È questa la migliore partita del Pescara dell'anno? No, sicuro. Oggi è stato buono anche per tutta la squadra. Quando il Realdo gioca bene è più facile per me giocare bene. Sono felice di giocare con grandi giocatori come gli altri e mi piace essere qua. È facile giocare con un giocatore come Verati perché lui mai ha perso il pallone. e mi piace lui. Io non lo so. È difficile dire. Oggi meglio gambe o meglio testa il Pescara? Pescara con Pari, con Varese. Io credo abbiamo fatto buono con Varese anche, mi è perso, come si dice, infortunabile. Tutta partita è difficile. Possiamo perso con tutto ma anche vincere. Oggi tutto è stato buono ma ancora è difficile perché il prossimo settimana è ancora una difficile partita. Hai una dedica per il primo gol italiano? Sì, è stato il mio primo gol italiano, sono felice ancora. Hai una dedica a qualcuno, a persona a cui vuoi dedicare? Mamma e fidanzata? Io non credo a mia fidanzata, a mia mamma che vede qua. Loro è in Danimacca. Dopo oggi io chiamarlo e dire che ho fatto un gol. Matti, una vittoria per Mancini e Morosini. Sì, sì, tanto, tanto. E' stato due male colpi per la nostra squadra. E' stato forte per noi continuare a giocare dopo contro Bari e anche questa settimana. dobbiamo provare ancora di giocare e facciamo. E' difficile ancora. Grazie. Grazie a tutti